Ancora bentrovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare sulla rete autostradaria regionale e in FIPILI. Uno sguardo alle statali per lavori sul raccordo Siena-Firenze, dal lunedì 24 settembre il transito sarà consentito a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata per un tratto di circa 3 km tra Badesse e Siena Nord. Lo svincolo di Badesse sarà temporaneamente chiuso in ingresso in direzione Siena fino al completamento dei lavori previsto per il 9 ottobre 2018. Ci spostiamo sulla SR 429 di Valdelsa, dove troviamo senso unico alternato e restringimento di carreggiata per lavori tra il km 58 e 59 nel comune di Castelfiorentino. Il provvedimento è in vigore fino alle 19 di questa sera. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!